Voglio il conto totale per domani. Non importa se sono 50 milioni di dollari in più o in meno. Tutto il mercato finanziario è stato scosso dalla irruenza con la quale la World Enterprises si è imposta su... Vede, Mr. Newton, più mantiene segreta la sua vita privata, più aumenta l'interesse della gente. Pensi che persino dall'Università di Chicago ci hanno scritto. E più di una volta. Perché non gli risponde, signor Fansworth? Deve essere gentile con tutti, anzi lo convochi. Bene, Lou. La mia vita non è segreta, signor Fansworth, è privata. Chi si nasconde dietro a questa mostruosa organizzazione che in brevissimo tempo invaso il mercato mondiale...